Eccoci è il caso di fisio Borderi, Siracusa. Questo è l'antifastino. Ecco l'idiatrice. Ciao, io sono Elefteri e lui è Mario. La bella e la bestia. Ah, beh, mettetemi insieme. Un braccio alla mente. Siamo a Siracusa, Ortigia, il mercato. Ma ce la bruciamo, caro. Meglio niente, va, meglio, meglio.